questo è un cavallo da monta francese ed è evidente che sia da monta bellissimo con un po' capace ah si 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 è bianca, quello è fra lì è qua, è qui? questo è la prima indagina allora va alla gomma non va a te se va a te, se va a te, se va a te se va a te, se va a te se va a te oh quando c'era la nuova cantatura mi ricordo quando veniva la transformante queste uniti i torchi vivivano e quando fanno le incroci che ho fatto un cavallo, realmente, lo fanno ma quello che c'era un personaggio che veniva in un cavallo che dice, va a fumire che non c'era un cavallo ma come fanno un cavallo può fare un cavallo da solo ma prima ci stiamo ma se no fanno le incroci ma no, ma c'è proprio questa persona ma no, ma c'è proprio questa persona però dici che aggiustevo questa cosa non sai che amano la roba quello aiutava a rinunciare qua eh eh figlia quello è bastante bellissimo bellissimo ma la prigione pure fanno la benedizione ma la fanno la benedizione ma fanno la benedizione non la fanno un po' è che ampeà è un passaggio è un passaggio che mi ha fatto è un passaggio è una cosa di tradizione tu hai dato che ti lo ha presenti tutto